Fra i corritori del carcere, Saeed, mostrandomi una maglietta che dissentiva e partecipava al lutto per i fatti di Parigi, mi ha chiesto, vuoi filmare anche tu? Questa maglia contiene le firme di tutti, italiani, romeni, egiziani, tunisini, marocchini. Mi colpisce il fatto che sono scritte con la stessa penna, un pennarello marrone che ha scolpito la vicinanza ai fatti di Parigi in segno indelebile d'uguaglianza. È un manifesto voluto dai musulmani presenti nel carcere di Villa Fastigi che oltre al cordoglio, la vicinanza alle vittime, vuole prendere le distanze dai concetti pseudo-religiosi che firmano l'efferatezza degli eccidi. Dimostra inoltre l'integrazione, il legame e il rispetto che i nostri compagni musulmani esprimono con il loro gesto. A noi l'onore di averli conosciuti. L'Islam non è l'Isis, la religione non vuole il sangue. La religione insegna che il credere nei valori giusti ti renda uomo giusto. Ed è del giusto il regno dei cieli, questo dicono i testi sacri. Non sarà mai giusto l'uomo che sopprime un suo simile. Per combattere il fenomeno del terrore bisogna imparare da quel papà che ha perso la moglie nella tragica notte del 13 novembre. Rimanendo solo nell'impegno di crescere un figlio di 18 mesi ha detto «Vi assicuro che non provo odio, sono impegnato nella crescita di mio figlio al quale non insegnerò ad odiarvi». Manifestazione di continuità e coraggio, vita e futura, civiltà e miglioramento, voglia di cieli azzurri, di fiori, di colori, di profumi, di passato e di presente, con la volontà di combattere il nero delle vostre bandiere. L'oblio che ricercate nel distruggere le testimonianze del passato. Non avete vinto. Ogni qualvolta ponete in essere un atto stragista, voi perdete. Io non solo firmo questa maglia, ma la indosso, a modi divisa, quella dell'esercito multietnico degli uomini giusti. Grazie. Grazie.